Ragazzi siete pronti? Stiamo per vendere 11 milioni di materiali, vediamo quanti soldi riusciamo a fare, vendi! Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Mining Simulator Oggi vi farò vedere delle figate assurde perché ho giocato veramente tantissimo a Mining Simulator Infatti come vedete sono arrivato a Rebirth 9, quindi sono rinato 9 volte e c'ho la bellezza di 3,9 miliardi di soldi E non ci ho messo neanche molto a farli, ci ho messo veramente pochissimo Adesso vi faccio vedere ragazzi quanto sono diventato forte Allora prima di tutto mettiamoci tutte le nuove cose che indosso di solito Quindi ci mettiamo questo, ci mettiamo queste ali e ci mettiamo la coda da dinosauro Con questo equipaggiamento ragazzi sono veramente fortissimo A prescindere da qualsiasi piccone io stia usando, cioè riesco a scavare tutto molto molto velocemente Oggi sbloccheremo il decimo Rebirth e andremo nell'ultimo dungeon, quindi la spiaggia Fino ad ora sono andato in tutti questi, quindi sono, tranne questo Sono andato a Candyland, sono andato a Toyland, a Foodland, a Dinoland e ad Atlantide Adesso resta l'ultimo, la spiaggia, sono veramente curioso di vedere che cosa c'è là dentro Ma adesso per esempio andiamo a Foodland, che l'avete già vista così non vi spoilerò niente E vi faccio vedere quanto sono veloce a scavare Ora sto utilizzando una canna da pesca presa ad Atlantide C'ho uno zainetto da 8 milioni, posso contenere 8 milioni e guardate quanto scavo velocemente E soprattutto ora vi farò vedere quanti soldi faccio in pochissimo tempo In meno di un minuto ragazzi scavando soltanto farina, maccheroni e patatine Quindi non andando neanche molto lontano Siamo a profondità, facciamo 100, a 100 ci fermiamo 97, 98, 99, 100, ora siamo a profondità 100 Abbiamo soltanto 22.000 blocchi nell'inventario Vediamo quanti soldi facciamo, 9 milioni Così, facili, facili Quanto ci abbiamo messo? 20 secondi? 20 secondi, abbiamo già fatto 9 milioni Questo perché con i Rebirth ovviamente vanno ad aumentare i vostri soldi Venderete i vostri oggetti a molto di più In questo caso 9 volte il loro valore Ora, io c'ho 3 miliardi e non so cosa farmene perché non appena comprerò il Rebirth Li vado a perdere tutti quanti Costa 100 milioni e io c'ho 3,9 miliardi Oh mio dio, li andrò a perdere tutti Però, poi posso semplicemente comprarmi di nuovo tutti i vari upgrade Quindi ricomprarmi tutti i picconi per andare avanti E andare appunto finalmente nella spiaggia e farvi vedere la spiaggia Ora, prima di comprare il Rebirth Vi faccio vedere immediatamente Atlantide Che è l'ultimo posto che non avete ancora visto Anche se credo che di Nolandia non l'avete visto neanche Beh, comunque è un posto con tutte le ossa di dinosauri eccetera Questo qua invece ragazzi è Atlantide Quindi è diciamo una città sott'acqua, sommersa sott'acqua Possiamo scendere? No, non possiamo scendere molto Si trovano materiali diciamo d'acqua Quindi coralli, pietre, alghe eccetera eccetera Quindi niente di troppo interessante Ma si farma veramente tanta tanta roba Ci si fanno un casino di soldi ragazzi Qua si diventa ricchi in men che non si dica Devo ringraziare tantissimo i fan che mi hanno fatto questi regali Tra l'altro mi sono dimenticato i loro nomi Uno di loro si chiamava Awesome qualcosa Non mi ricordo, scusate ma è passato troppo tempo Che mi hanno dato questi regali veramente assurdi Alcuni dei quali tra l'altro si pagano con i soldi Queste qua se non sbaglio si comprano con i soldi veri E ogni volta che vendi uno di questi oggetti Ti fai tanti soldi per riiniziare A meno che ovviamente, a meno che è troppo buono Ecco, ti dà 75.000 monete questo Quindi ora io ragazzi comprerò il Rebirth Torneremo a 0 soldi in assoluto Guardate, boom Rebirth numero 10 Abbiamo 0 soldi Non abbiamo più un piccone Non abbiamo più uno zainetto Siamo direttamente, siamo ritornati completamente da capo Quindi tutto da 0 Però io posso ovviamente, grazie, vendendo queste cose Posso farmi qualche soldino per comprare i primi materiali Quindi, oh, questo costa 200.000 Beh, sono belle, sono belle Però io c'ho di meglio Quindi vendiamo pure questo Poi vendiamo anche questo qua Uh, madonna ragazzi Guardate quante cose sto vendendo Quindi adesso abbiamo più o meno 670.000 di soldini Che cosa ci facciamo con questi 670.000? Ci compriamo La prima cosa che faccio io di solito È comprarmi uno zainetto più o meno capiente Ecco, 4.000 di spazio Non sono molti Però ce li facciamo bastare per un paio di scavate Perché adesso con il piccone normale Sì, col piccone normale Quello iniziale Vedrete che sono comunque velocissimo Grazie agli oggetti che c'ho in inventario Quindi andiamo a riempire immediatamente questo inventario E poi andremo finalmente alla spiaggia Nel nuovo posto Non vedo veramente l'ora Ovviamente non è veloce come prima Non può essere perché È il piccone iniziale questo Quindi sto utilizzando il primo piccone In inventario pieno Vediamo quanti soldi mi dà Mi ha dato 931.000 Semplicemente ragazzi scavando un paio di blocchi Ecco, come vedete Ora come ora Io non sono neanche il più forte del server Sono al quarto posto nella classifica In alto a destra Continuiamo a vendere tutto Ora ne abbiamo vatti 800.000 Comunque a noi al momento Interessa semplicemente fare tanti soldi Nel meno tempo possibile Per il semplice fatto che così Possiamo comprare gli upgrade E poi andare a farmare veramente Nei posti dove si farmano tanti soldi Perché nella prima miniera Mi dispiace dirvelo Ma non si farma questo granché Sinceramente Cioè, non arriverete mai a fare i miliardi Qua in questa miniera Non vedo l'ora di vedere la spiaggia Perché non l'ho mai vista Io tra l'altro fino ad ora Non mi sono mai spoilerato questi posti Guardando i video di YouTube Non ho guardato niente Ho seguito soltanto i vostri consigli Che me li avete scritti qua sotto nei commenti E grazie soprattutto a tutti quanti Di tutti i mi piace che mi avete lasciato Mi raccomando Datemene altri di consigli Qualora ne avessi bisogno Anche se credo comunque Di essere diventato bravo abbastanza Tra l'altro qua si trovano materiali Che prima mi davano tipo 100.000 Adesso mi danno tranquillamente 50.000 E così via È proprio fuori di testa Ok è la prima volta che entro in spiaggia Vediamo che cosa ci aspetta Oh mio dio Allora eccoci qua Wow Che bella È veramente molto bella Sono curioso di vedere Quanto costa il primo piccone della spiaggia E soprattutto anche il primo zainetto Perché i materiali sono sempre diversi Ok il primo costa 38 milioni Ed è un cono gelato E poi il secondo 440 milioni Ed è una pala dorata Questa ce la compreremo sicuramente E gli altri costano invece in Robux Ok proviamo adesso invece con lo zainetto Che zainetto ci sarà? Quindi ci abbiamo la palla da spiaggia Che costa 220 milioni E poi ci abbiamo Uh che bello questo Questo qua è una borraccia d'acqua Praticamente 550 milioni E il resto costa pure Robux Quindi Farmiamo un bel po' di soldi adesso Qua in spiaggia Proprio tanti Penso di dover fare almeno Sì un miliardo Ecco ci facciamo un miliardo all'incirca Così sblocchiamo tutto quanto Allora continuiamo da qua Allora questi sono un pochettino meno da 100.000 Quindi possiamo trovare i ghiaccioli Possiamo trovare qua le palette Ovviamente tutte cose che si troverebbero In spiaggia comunque E guardate che valore hanno ragazzi Queste sono scarse diciamo E già mi dando comunque quasi tutte quante un milione Ovviamente io potrei andare avanti Ancora tantissimo Con i rebirth e diventare sempre più forte Però diciamo che il minimo per finire il gioco Sono 10 rebirth In questo modo sblocchi tutte quante le lande Ed è una figata Questa infatti è proprio l'ultima E poi più avanti vai Più forte diventi Più soldi fai Ma sinceramente non ne vedo un motivo Non vedo un senso A questa cosa Comunque scrivetemelo voi nei commenti ovviamente E ora mi sa che faremo una gara io e lui Ma lui è molto più veloce di me Questo qua ragazzi è veramente assurdo Sicuramente è un livello altissimo Comunque me la cavo Guardate quanto stiamo andando veloci Eh io mica lo vedo lui Dov'è lui? Non lo vedo Quindi io sono più veloce di lui In questo momento Allora dobbiamo fare 220 milioni Per fare uno zainetto bello potente Così possiamo farmare per più tempo Ok ragazzi adesso che abbiamo la bellezza di 260 milioni Ci andiamo a comprare uno zainetto scarso Proprio il primo che troviamo Ecco questo qua 220 Perfetto L'altro costa un po' di più E vediamo quanto riusciamo a farmare con questo zaino Abbiamo 2 milioni e 500 mila di capienza Quindi possiamo farmare per all'incirca un 10 minuti forse Penso un 10 minuti perché sono lento con questo piccone Ragazzi ci ho messo meno di 4 minuti a riempire l'inventario E ho preso la bellezza di 1 miliardo e 193 milioni Quindi adesso ci compriamo subito Intanto beh il piccone migliore che c'è qua Che costa la bellezza di 440 milioni Pfff Bazzecule Che chi ci vuole a comprarlo E ci compriamo anche uno zainetto migliore Ok adesso ragazzi questo mi darà la bellezza di 11 milioni di spazio nell'inventario E questa palla secondo me scaverà alla velocità della luce Sono veramente curioso di vedere quanto veloce riuscirò a scavare adesso Quindi scendiamo giù 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 E soprattutto quanti soldi riuscirò a fare Riempiendo lo zainetto di 11 milioni Cioè questo qua è praticamente FK Allora sapete cosa io mi sposto Oh mio dio guardate quanto scava veloce ragazzi Scava veramente super veloce Ragazzi siete pronti? Stiamo per vendere 11 milioni di materiali Vediamo quanti soldi riusciamo a fare Venti Oh mio dio 4 miliardi e 696 milioni Cioè io ci posso comprare tutto il gioco adesso con questi soldi Che ci faccia con 4 miliardi E ci ho messo quanto? 6 minuti Ci ho messo 6 minuti a fare questi soldi Tra l'altro sono sicuro che adesso se dovessi iniziare a scavare qua Scaverei tipo alla velocità della luce Oh mio dio Guardate quanto va veloce ragazzi Sono già a livello 200 Che figata sono contentissimo E' veramente super rilassante Va 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 non si è neanche riempito l'inventario Potrei scendere ancora qua all'infinito Ho riempito soltanto 200 mila blocchi E ne ho ancora 11 milioni a disposizione Beh ragazzi credo che abbiate capito tutti quanti Comunque che adesso sono veramente potentissimo C'ho tantissimi soldi E sono arrivato al rebirth numero 10 Ovviamente potrei già prendere l'11 e così via Costa solo 110 milioni Io c'ho 5 miliardi Ma non lo faremo di certo in questo episodio Mi raccomando ragazzi lasciate un bel mi piace Se vi è piaciuto questo video E se vi siete divertiti E noi ci vediamo sicuramente in un prossimo video di Roblox Ciao We're going on a trip In our favorite rocket ship Fiumin' through the sky Little Einstein Climb aboard Get ready to explore There's a monster find Little Einstein We're going on a mission Don't do it in the sky